Una cosa molto importante quando andiamo a realizzare delle fotografie è il sistema di messa a fuoco che utilizziamo. Infatti non ha molta importanza se abbiamo la fotocamera con il sensore più bello o l'ottica con lo sfocato migliore. Se non riusciamo a mettere a fuoco, non riusciamo a portarci a casa le immagini che volevamo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi parlo di un argomento molto molto semplice ma molto dibattuto, ovvero il sistema di messa a fuoco delle nostre adorate fotocamere. Va da sé che questo non è un argomento particolarmente facile, quindi ho intenzione di spezzettarlo su più video. Per cui se volete essere sicuri di non perdervi i contenuti successivi io vi consiglio di iscrivervi subito a questo canale cliccando il bottone qui sotto e se attivate anche la campanella siete ancora più sicuri di non perdervi gli episodi successivi. Comincio col fare una distinzione, ovvero nel momento in cui noi andiamo a scattare fotografie possiamo avere un sistema di messa a fuoco attivo e passivo. Quando utilizziamo una fotocamera come potrebbe essere per esempio una reflex è molto probabile che li abbiamo entrambi. Ora un sistema di messa a fuoco attivo è quello che fa uso della piccola fotocellula che molti di noi avranno visto sulle proprie fotocamere e questa fotocellula emette una luce nel momento in cui dobbiamo andare a focheggiare in condizioni di scarsa luminosità o comunque in una condizione per cui la nostra fotocamera fa fatica. Ogni volta che la nostra fotocamera fa fatica con un sistema di messa a fuoco passivo entra in gioco un sistema di messa a fuoco attivo che quindi proietta un raggio di luce o un infrarosso che ci aiuta a mettere a fuoco la nostra scena. Ovviamente questo sistema può anche essere disabilitato, vedremo dopo sia come si fa sia perché potremmo volerlo disabilitare. Sistema di messa a fuoco passivo invece, che è quello che usiamo la maggior parte delle volte quando scattiamo in luce diurna fa utilizzo solamente della luce presente sulla scena. Non lancia nessun lampo e quindi non corre il rischio di disturbare i nostri soggetti o di segnalare la nostra posizione o di rendere palese che stiamo scattando una foto. Ovviamente l'unione di questi due sistemi ci aiuta a ottenere risultati consistenti nel maggior numero di situazioni possibile. A questo punto io vi propongo di seguirmi e ci addentriamo nel menu di questa fotocamera in maniera tale da cercare di capire che cosa succede al suo interno e che cosa possiamo fare per migliorare le nostre performance di messa a fuoco. Molto bene, eccoci qui in compagnia di una di quelle che io reputo essere le fotocamere più riuscite della linea Canon per quanto riguarda le fotocamere reflex, quindi una fotocamera non esattamente attuale che però secondo me ha ancora le sue belle cose da dire. Cominciamo col dire una cosa molto importante che prima ho omesso. Il nostro sistema di messa a fuoco può ovviamente essere automatico oppure può essere manuale. Qui abbiamo un selettore sul barilotto dell'obiettivo e in questo momento è impostato su AF quindi autofocus, se io voglio mettere a fuoco manualmente lo sposto su MF manual focus in questo momento la fotocamera viene azionata dall'anello di messa a fuoco e basta. Quando torno su autofocus verrà azionato dal mio polsante di messa a fuoco e quindi avrò la messa a fuoco automatica sul mio dispositivo. A questo punto richiamo la vostra attenzione sul pulsante Q che sta posizionato più o meno qui a seconda del modello potrebbe essere in punti diversi o a seconda del brand potrebbe anche non chiamarsi così però quasi tutte le fotocamere hanno un menu di questo tipo. Ora qui vi faccio notare che abbiamo delle impostazioni dedicate alla messa a fuoco in particolare qui abbiamo One Shot, AI Focus e AI Servo. Ora queste tre modalità sono molto diverse fra loro e vedete che io l'ho impostata su One Shot perché tendenzialmente io faccio focus e recompose. Quindi fondamentalmente scatto un soggetto che sta fermo, voglio mettere a fuoco in un punto ben preciso e voglio che la messa a fuoco rimanga in quel punto fino a che io non scatto. Per questo motivo vado a utilizzare la modalità One Shot. A differenza di One Shot le modalità AI Focus e AI Servo fanno esattamente il contrario ovvero con AI Focus abbiamo un sistema di intelligenza artificiale che cerca di seguire il nostro soggetto quindi nel momento in cui inquadriamo qualcosa e nel momento soprattutto in cui il nostro punto di messa a fuoco si trova su qualcosa che si muove, la macchina cercherà di seguire il movimento quindi andrà a mettere a fuoco più avanti o più indietro a seconda che il nostro oggetto o soggetto si sposti. Quindi riassumendo possiamo dire che utilizzeremo One Shot se il nostro soggetto non si muove e useremo AI Focus o AI Servo se il nostro soggetto è in movimento. Questo dipende dal nostro soggetto e andremo a scegliere la modalità che più si addice alle nostre esigenze. Proseguiamo e vediamo che la prossima opzione, qui vado ad avvalermi del menu touch la prossima opzione riguarda i punti di messa a fuoco della nostra fotocamera ora vado a usare il tasto croce così siete in grado di vedere quello che faccio qui abbiamo la modalità singolo punto di messa a fuoco questa è la modalità che io utilizzo la maggior parte delle volte e la maggior parte delle volte utilizzo solo il punto di messa a fuoco centrale perché sono sicuro che ha croce e quindi è il più preciso di tutta la fotocamera e perché mi permette di mettere a fuoco con precisione qualcosa che si trova nel centro e poi ricomporre il frame casomai io volessi fare un'inquadratura differente. Ora se noi modifichiamo questa selezione vedete che qui il punto di messa a fuoco è cambiato qui noi possiamo ancora spostarlo però adesso non abbiamo più un singolo punto di messa a fuoco ma abbiamo un punto di messa a fuoco con tolleranza di tre punti per lato questo significa un'area maggiore quindi significa che questo è un sistema più adatto a mettere a fuoco cose che si muovono perché dovrò fare meno attenzione dove si colloca il mio singolo punto di messa a fuoco se il mio soggetto ricade in un'area coperta da questi punti di messa a fuoco verrà comunque messo a fuoco in maniera più o meno corretta la debolezza di questo sistema ovviamente è che la cosa più vicina alla fotocamera verrà messa a fuoco quindi la cosa che ricade in questo reticolo che si trova più vicina alla fotocamera verrà automaticamente messa a fuoco anche se potrebbe non essere la scelta migliore procediamo e come potete vedere qui abbiamo un sistema di messa a fuoco a zone qui diventa sempre più automatico vedete perché qui noi dobbiamo solamente decidere in che zona si troverà il nostro soggetto se a sinistra al centro o a destra e di nuovo la fotocamera metterà a fuoco automaticamente basandosi su quello che sta più vicino quindi anche qui potrebbe non essere la scelta più corretta abbiamo poi una modalità completamente automatica dove la macchina fotografica prende in considerazione l'intero reticolo dei punti di messa a fuoco e andrà automaticamente a selezionare quello migliore anche qui basandosi quasi esclusivamente sulla distanza in base alla mia esperienza e per quello che faccio io vi posso dire che io utilizzo sempre la macchina in questa configurazione però non ho nessun problema a dirvi che la userei probabilmente in automatico se stessi fotografando sport o cose in rapido movimento perché la fotocamera è più veloce di me a prendere decisioni e a mettere a fuoco a questo punto ci spostiamo all'interno del menu e torniamo sul menu arancione sulla sezione dedicata all'autofocus vedete che qui abbiamo tutta una serie di opzioni tra cui la sensitività del tracking quindi nel momento in cui siamo in una modalità come AI focus o AI servo questo serve per stabilire con che velocità la fotocamera deve agganciare il nostro soggetto e seguirlo e qui a seguire abbiamo tutta una serie di opzioni personalizzabili per andare a migliorare questo sistema in maniera tale che si adatti alle nostre esigenze una cosa importante di cui vi ho parlato prima che adesso andiamo ad approfondire è il sistema di messa a fuoco attivo questa qui è la sezione dedicata all'AF Assist Beam come potete vedere è attivato qui noi abbiamo la possibilità di disattivarlo in questa maniera oppure possiamo mantenere attivo solamente quello di un flash esterno oppure possiamo lanciare un raggio infrarosso in maniera tale che sia invisibile ai nostri soggetti questa è un'opzione particolarmente utile su una macchina come questa e vi dico perché mi è capitato per esempio e vi lascio il video linkato da qualche parte mi è capitato per esempio di fare fotografie di notte alle lucciole vi assicuro che le lucciole scappano alla vista del beam luminoso perché le lucciole odiano la luce quindi il fatto di lanciare un beam che sia solamente infrarosso aiuta in questi casi perché è meno fastidioso per le bestiole anche questa è un'opzione molto interessante fuoco continuo o stop focus search quando non si riesce a mettere a fuoco quindi per esempio se il nostro soggetto è troppo vicino vedete che la fotocamera fa fatica a mettere a fuoco a questa distanza perché sono veramente troppo vicino alla lente se sono troppo vicino alla lente e quindi la macchina non riesce a mettere a fuoco io posso dirle di continuare in perterrita a cercare di mettere a fuoco oppure di fermarsi se non ci riesce queste sono cose importanti perché ci permettono di essere più efficienti qui di nuovo possiamo selezionare le opzioni che vogliamo per quanto riguarda i punti di messa a fuoco qui abbiamo dei bottoni personalizzabili abbiamo tutta una serie di opzioni che possiamo andare a personalizzare per migliorare la nostra esperienza con la fotocamera nell'ultima voce di menu abbiamo addirittura un parametro per andare a fare dei micro aggiustamenti quindi possiamo fare dei micro aggiustamenti per andare a tarare internamente il nostro sistema di messa a fuoco vi dirò che questa è una cosa che non ho mai fatto perché utilizzando solo lenti originali che non ne ho mai avuto bisogno forse con lenti di terze parti può essere necessaria una cosa del genere oppure per utilizzi particolari ma personalmente vi dico che non l'ho mai sperimentato bene amici come avete potuto intuire l'argomento è molto ampio non riesco io ma non riescono anche altri a dipanarlo completamente nel corso di un unico video quindi siccome preferisco mantenere questi contenuti corti e interessanti piuttosto che farvi un mappazzone infinito ora ci fermiamo qui per quanto riguarda il menu di questa fotocamera di cui vi ho detto sostanzialmente tutto ma non abbiamo finito perché ci sono altre fotocamere con dei menu diversi con delle opzioni diverse che andremo ad affrontare nel corso di altri video che pubblicherò in seguito ma fatemi sapere nei commenti se questo argomento vi interessa perché ovviamente se in tanti mi dite che questo argomento vi interessa do priorità a questo tipo di contenuto mentre se mi dite che sapete già tutto e non vi interessa questo tipo di argomento do priorità ad altri tipi di contenuti per cui vi aspetto nei commenti vi ringrazio come sempre di aver dedicato un po' del vostro tempo ad apprendere cose nuove riguardo al magico mondo della fotografia e vi do appuntamento al prossimo video 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 e vi do appuntamento al prossimo video